Ma lei quanti figli ha? Quanti? E dove sono? E qui? Come si chiamano? Incomincia dal primo Come volete? Costantina, Gersomina, Filomena, Tidino, Rida, Anna, Nunzia, Padrizia, Antonio, Franco Giovanni, Gennaro, Carmine, Cidra, Ernst e Lau Ma sul marito cosa fa? E' sotto a pagare Ma sono tanti bambini, bisogna vogliare molto E non vogliare molto E come fate? E sono già in casa, lavorano due bombonine Come voi lavorate? Due bombonine Gersomina, Filomena, Tidina, Rida, Anna, Nunzia, Padrizia, Antonio, Franco, Giovanni, Gennaro, Carmine, Cidra, Ernst e Lau E sono già in casa, lavorano due bombonine Padrizia, Padrizia, Antonio, Antonio, Franco, Giovanni, Gennaro, Carmine, Cidra, Ernst e Lau E sono già in casa Due bombonine